Una buona domenica dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Damiano Fedeli. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e in FIPILI. Proprio sulla Firenze-Pisa-Livorno, per lavori, possibili code fra Ginestra-Fiorentina e la Strassigna in entrambe le direzioni. Sulla 1 è chiuso per lavori fino al 31 agosto lo svincolo di Firenze in prunita in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. Chiuse le corsie di destra nel tratto Firenze-Imprunita-Scandici. Sulla 11 per lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 13 alle 6 di mercoledì 14, sarà chiusa la stazione di Capannori in entrata verso Pisa. A Firenze, nuovo asfalto in via Paesiello e in via del Madonnone, ripristini in Borgo Santi Apostoli, sono alcuni degli interventi al via da domani in città. Moversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!